Schizza del 25% in su il tasso di infortuni sul lavoro in Puglia nei primi dieci mesi del 2022, passando da 19.909 a 24.975 denunce complessive, di cui circa 3.000 avvenuti nel tragitto casa-lavoro. E' quanto emerge dal dossier dell'INAIL, che registra 64 incidenti mortali, con un calo del 28% rispetto al 2021, quando le vittime furono 82. Ad avere la peggio sono soprattutto gli uomini, il 63% del totale. Preoccupa la pericolosità di alcune categorie, ad esempio agricoltura, pesca e zootecnia, che fanno segnare un più 155%, seguite da trasporti e magazzinaggio, più 134%, terzo posto per ristorazione e ricettività, più 107%. Più contenuti gli aumenti per l'edilizia, in passato maglia nera, o per la sanità, che nel biennio precedente ha pagato Nazio a causa del Covid. Covid. Aumentano del 17% anche le segnalazioni di malattie professionali, in particolare tumori, patologie respiratorie, intossicazioni, allergie, artrosi, con un totale di quasi 4.000 fascicoli aperti, quasi 600 in più rispetto al 2021. Tra le province, la BAT fa la parte del leone nel numero di infortuni, con un incremento del 30% sul 2021, mentre il numero più alto di morti, 17 in totale, si registra nel Foggiano. L'INAIL ha eseguito circa 8.000 ispezioni sui luoghi di lavoro, puntando ad arginare il triste fenomeno delle morti bianche, una strage silenziosa che segna tre decessi al giorno in Italia.